Edmondo de Amicis, primo maggio, scritto nel 1891, estratto dal secondo capitolo, dialogo tra il cavalier Bianchini e suo figlio Alberto. «Hai visto? Eh?» domandò il cavalier Bianchini. «Hai sentito ieri sera quei mescalzoni?» Il figliuolo rispose indifferentemente «Ho visto?» e tacque un momento come se gli rincrescesse di soggiungere quello che aveva in mente. «Ma che vuoi?» disse dopo. «Per me mi fa pena una società che quando quelli che la fanno vivere domandano un po' meno di lavoro e un po' più di benessere, per tutta risposta mostra loro le baionette». Il padre lo guardò. «Capisco», rispose poi, «ma lo domandino in un altro modo». «È un pezzo che lo domandano in altro modo», osservò il figliuolo sorridendo. «Che cosa hanno ottenuto finora?» Bisogna vedere se le loro domande sono ragionevoli. Insomma, la condizione degli operai si è migliorata molto da una volta. «È opinione discutibile, se migliorata per alcuni, se peggiorata per altri. È diventata più precaria per tutti. Riconosco che stessero peggio una volta. Ma ti parebbe giusto negare a un giovane negro un diritto per la ragione che suo padre non ne aveva nessuno?» Il Bianchini non afferrò lì per lì l'argomento. «Però, disse, lasciamo andare. Il migliorare la propria condizione dipende anche in gran parte da loro. Facciano anche un po' d'economia, smettano i vizi, si istruiscano». «Ma, caro papà, gli disse con un sorriso morevole il figliuolo, «quando il salario basta appena alla vita, come vuoi che basti a fare economia?» «I vizi! Dio mio, noi lo sappiamo bene che grandi vizi si possono avere senza danaro. E che tempo hai lasciato loro per istruirsi?» «Che tempo hai lasciato loro per istruirsi?» Ripete il padre. «Dunque, tu sei per le otto ore di lavoro?» «Certo. E credi che le otterranno?» «No, gli industriali dicono che non possono ridurre le ore se in tutti i paesi i governi non le riducono. Ciò che è vero. E i governi dicono che non possono perché le condizioni di vari paesi, per industria, clima, eccetera, sono troppo diverse. Vedi dunque che lo stato attuale delle cose è inevitabile». «No, papà, tu vuoi dire che lo stato attuale delle cose era inevitabile che avvenisse se prodotto necessariamente come ogni fase di uno sviluppo. Questo è vero, ma è un'altra cosa. Come lo stato attuale è derivato da un altro, così un altro, col tempo, succederà a questo, necessariamente, per forza indipendente della volontà dei proletari e dei governi». Il bianchini poi, con stupore, scrollò il capo, non persuaso, poi domandò improvvisamente «In che maniera?» «A quanto a questo?» rispose sorridendo il figliuolo. «Io non lo posso sapere. Si può prevedere a che cosa arriverà alla società, ma non segnare la via o le vie per cui passerà per arrivarvi. Vorresti dire una rivoluzione?» domandò il padre fissandolo. «Può anche essere, o se non una rivoluzione, una serie di discorse violente, di convulsioni sociali, che a poco a poco modificheranno radicalmente lo stato attuale». «E credi che comincerà presto questa serie di rivoluzioni?» domandò il padre con un sorriso di chi dubita se il discorso sia serio o facetto. «Credo che sia già cominciata», rispose serio il figliuolo. A quelle parole suo padre e sua moglie s'alzarono tutti e due insieme, ridendo, come per far capire che non dubitavano più di uno scherzo. «Da quando in qua hai queste idee?» gli domandò la moglie. E il padre ripete la domanda mettendogli scherzosamente una mano sulla spalla. «Giusto, da quando in qua hai queste idee?» Alberto s'alzò un po' piccato e rispose «Ho parlato sul serio. Come potete pensare che io scarzi sopra un argomento di questo genere?» Il padre si fece serio. «E perché allora non ci hai mai espresso le tue idee?» «Perché prevedevo che non ci saremmo intesi. E vedete bene che avevo ragione». «Ma insomma», disse il padre, prendendosi la fronte con le dita riunite della mano, «dimmi proprio chiaro e preciso quello che pensi». Il figliuolo rispose con pacatezza quasi dolce. «Ecco quello che penso. Penso che la parte che è data ai lavoratori sul prodotto generale della ricchezza non è proporzionata alla parte che essi rappresentano nell'opera generale della produzione della ricchezza medesima. Penso che non è giusto che quella parte della società che fa il lavoro più faticoso e più necessario per nutrire, vestire, alloggiare e dare all'altra parte i mezzi e l'agio di educarsi non guadagni abbastanza da nutrirsi, vestirsi e alloggiarsi umanamente e sia esclusa dalla possibilità di istruirsi. Penso, insomma, che il lavoro non raccoglie i benefici che arrecca il progresso della civiltà perché questi benefici gli sono intercettati da un difettoso organamento sociale». La signora intervenne con la sua voce placida. «Ma Alberto, come vuoi che tutti si trovano nelle stesse condizioni di fortuna?» Il padre approvò l'argomento col capo. «Non dico questo», rispose Alberto, «ma perché si debbono tenere nelle condizioni peggiori quelli che lavorano di più e che sono più necessari? Perché ci deve essere tanta gente che lavora troppo e non mangia abbastanza e tant'altra gente che lavorando la metà vive nella giattezza e tant'altra che non lavorando punto nuota nell'abbondanza?» «Ma perché il mondo è fatto così, figliuolo mio?» rispose il padre sorridendo, quasi stupito dall'ingenuità del figliuolo. «E perché così è sempre stato?» «No, papà, così non è sempre stato. C'era la schiavitù e il servaggio e non ci sono più. C'era il feudalesimo, c'era il dispotismo e sono scomparsi. C'era l'ineguaglianza civile e politica delle classi ed è stata soppressa. Vedi che il mondo è mutato e se si è mutato si può mutare. Se si può mutare non è una legge soprannaturale che sia com'è al presente.